L'economia collaborativa non è più solo un sogno e la Toscana è un vivaglio di esperienze, che si tratti di mettere in comune i mezzi di trasporto in zone periferiche o di recuperare specie agricole che fanno rinascere interi territori. A dirlo è il Libro Verde Collabora Toscana, presentato a Firenze dalla Regione Toscana in un evento organizzato con Anci e Dire e Fare 2017. Messa in comune della proprietà, gestione condivisa dei servizi e produzione dei beni a livello di comunità, sono la ricetta di un'economia e cui i risvolti sono soprattutto sociali e che dopo un percorso di confronto e ascolto con comuni, università e cittadini, ha bisogno di essere supportata da regole meno rigide, con un obiettivo preciso. Continuare il percorso di tenere un po' il filo rosso fra queste iniziative, quindi continuare a monitorarle, a vedere quelle che non conosciamo, quelle che nascono, aggregarle, tenerle insieme anche con un marchio di collabora toscana che gli dia modo a quelle nuove di nascere meglio, a quelle già nate di svilupparsi meglio. 12 prototipi di economia collaborativa inseriti nel Libro Verde, 4 presentati nell'evento a Firenze e dedicati ai beni comuni urbani, a quelli agricoli, alla mobilità e alle cooperative di comunità, con gli esempi del recupero condiviso di un bene confiscato alla mafia a Campi Bisenzio, dei grani antichi a Montespertoli, della mobilità partecipativa a San Casciano e del teatro povero a Montichiello, divenuto fonte di lavoro. Un tassello dopo l'altro abbiamo costruito tutti insieme un paese intero, proprio venendo dall'esperienza del teatro, continuandola perché quella è la nostra mamma, insomma noi partiamo e vogliamo arrivare lì e abbiamo costruito una cooperativa, questa cooperativa di comunità che dà innanzitutto servizi al paese che altrimenti non li avrebbe, però crea anche dinamiche di lavoro. Esperienze lontane dalla sharing economy dei mercati globali che trovano terreno fertile in Toscana e capaci di creare una nuova relazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Io credo molto in questo sforzo congiunto tra regione e comuni perché io penso che ci siano molte buone pratiche in giro per l'Italia, in particolar modo per la Toscana che è il terreno fertile da questo punto di vista, dobbiamo metterle più a sistema, dobbiamo fare più gruppo, più squadra. Una squadra a cui il Libro Verde collabora a Toscana ora offre raccomandazioni e spunti per una seria opportunità di crescita.